filo e peter non potrebbero essere più diversi uno è snello e scattante l'altro è robusto con volti ricci ogni mattina si incontrano in bici sulla salita che porta alla scuola all'inizio non si sopportano poi diventano inseparabili insieme si divertono da matti in sede loro bolidi sono così veloci e abili da tirare l'attenzione di un famoso allenatore che propone loro una gara il vincitore entrerà nella squadra nazionale ma dovrà lasciare la famiglia e i compagni chi vincerà e soprattutto la loro amicizia resisterà alla pressione della competizione